Gli agenti della Polizia di Stato della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno tratto in arresto un 28enne ed un 31enne, entrambi resisi responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio. Nell'occasione i due individui venivano sottoposti a controllo nei pressi dello svincolo della tangenziale di Salerno, uscita parco a Bostella. Da successivo controllo e perquisizione gli agenti rinvenivano dosi preconfezionate di sostanze stupefacente, rivelatasi poi alle analisi della Polizia Scientifica di tipo cocaina e hashish. I due con precedenti specifici e per rapina venivano tratti in arresto e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria che disponeva che venissero collocati presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari in attesa della successiva udienza convalida dinanzi al GIP del Tribunale di Salerno.